Papa Francesco celebra la Messa di Pasqua oggi 12 aprile 2020 alle ore 11 al partito all'altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Nel corso della solenne celebrazione viene però omesso il tradizionale rito del Resurrexit per colpa dell'emergenza legata al coronavirus. Al termine della Messa, dai cancelli della confessione, Sua Santità ha rivolto ai fedeli il messaggio pasquale. Dopo l'annuncio della concessione dell'indulgenza plenaria che sarà dato al Cardinal Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, il Papa poi ha impartito la tradizionale benedizione chiamata Or Urbi e Torbi, ossia alla città di Roma e al mondo intero. Bene, questo dunque sarebbe quanto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate, datemi le vostre opinioni, ci tenga ad averle. Un saluto caro da vostro Reandro, narratore italiano di YouTube Italia.